Quanto siamo? 2 a 0 Chi ha segnato? Mago sono un millicolo Fufi Fufi e Giovanni Brava Grazie, promossa? Un attimo che c'è una domanda dal pubblico Allora, signora Olive, che cosa si provare se la moglie di un calciatore? Ho sposato un calciatore Ho sposato Beckham Vedi? Vedi che voi non vi fate mandare il messaggio e quei nomi della giornata Vediamo il messaggio Non mi è andata nel cellulare Aspetta Non mi ha definito Alfonso Risultato? Alfonso aspetta, alla fine della partita, devi soffrire Allora, 2 Adesso Allora, noi aspettiamo, signor Angelo devi perdere Aspettate Qua c'è una punizione per il loss 2 a 0 per noi No, devi aspettare No, quello muore Deve soffrire Allora, come? Stavano per farci il gol Anna, non lo mandare Non lo mandare Anzi, sono figazzo Cellulare scarico No, abbiamo deciso Ma no Hai visto che Saprai risultato alla fine della partita Anna, non lo fare Già due gol ci stavano facendo No, no Quale che hanno segnato? 2 a 1 Hanno segnato 2 a 1 Non scrivere niente Il mio messaggio Alfonso porta ufficialmente spighe Posso fare una domanda? Posso fare una domanda del pubblico? Ma è vero che Il numero di giocatore Comunque abbiamo un giocatore che non serve Il numero 18 E chi è? Angelo Olive, purtroppo mio padre Purtroppo mio padre Cosa si prova a essere il figlio di un calciatore? Se ero figlio di Rettpiero Cioè, era bello Però figlio di Angelo Olive Angelo Olive, puniscilo Guardo sai che potessi essere il nuovo Maldini Scattatelo Maldini Maldini, e li venti nel piccino? Cioè, questi parolati? Primo non sono difensi Vabbè, il padre era Il padre era calciatore Anche il figlio Così come tu e il tuo padre Che cacchio hai scritto? Intanto, scusate Un'ultima news del minuto La signora Lulabella è ufficialmente Fuori controllo Sboglia a mandare messaggi C'è! Quanto è? 3 a 1 Eh no, fatemeli mandare Alfonso, frisciatelle Per favore Sboglia 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 4 a 1 4 a 1 Ha segnato Giovanni Che gol? Piaggio stiamo vinte 4 a 1 Aspetta Aspetta Sì Cosa ne pensi di questo 4 a 1? Come si chiama Giovanni? Sboglia Sboglia Sboglia